Se in passato qualcuno pensava di poter utilizzare il legittimo impedimento come uno strumento per rallentare i processi, noi siamo per accelerare i processi. Si vadano a fare i processi, si vada a sentenza, si dicano i nomi e i cognomi dei colpevoli, perché questo Paese ha bisogno di avere indagini che arrivano finalmente a conclusione e ha bisogno di processi che si celebrino non nell'ecomediatica del giorno dopo la notizia delle indagini, ma nelle aule dei tribunali. Noi siamo molto felici di leggere i vostri articoli, ma siamo molto affezionati agli articoli del codice penale e del codice di procedura penale, che sono quelli che regolano un Paese civile per il quale si è colpevoli con sentenza passata in giudicato e noi vogliamo che le sentenze arrivino alla Cassazione se necessario e quindi a passare in giudicato.